Ciao a tutti amici di youtube, oggi siamo qui in un nuovo video in compagnia di Coater1355 Ciao ragazzi Ciao ragazzi Oggi faremo un episodio su Airtstone che è un gioco di carte, è un gioco di strategia Io faccio particolarmente cagare in questo gioco, infatti come potete vedere qui si vede per metà, ho solo 90 monete E oggi andremo a sfidare Coater1355, che lui è molto più bravo, vediamo Mamma mia Chiediamogli la sfida Ah ok, me l'hai inviato tu, ok vai Ok, allora, tu che mazzo scegli, anzi no, non dirmelo, non dirmelo Ok dai non te lo dico Ok dai non te lo dico Vai Ok si è incantato tutto, bene Io direi di prendere un bello Ma si dai, scommetto che l'hai scelto anche te perché ti conosco però dai va bene Iniziamo la partita Ok, sei pronto a perdere? No perché tipo Scherto Sì, tu battere me Che divertente Che divertente Ok è iniziata la partita Scrivete per sotto ora Iniziate la partita Tipo faccio un po' di pubblicità Un attimo Dai coater Fornisce scudo divino, posso fornirlo al mio? Non penso Facciamo una cazzata del genere, dai tanto per Dai tanto Ok ragazzi è il turno di coater 1350 a 5 Tanto cazzeggiamo un po' perché non so cosa fare, vedremo cosa evoca lui Allora scudo divino, mini bot Scudato, io direi sculato però va bene perché ha lo scudo divino Allora siamo a 2 di mana, potrei evocare uno di questi Oh mia, la pezzi entra Yeah, 3 tolto Iniziamo bene ragazzi Comunque allora Aspetta Partiamo con il minato Ora vedrai tipo No non ora dai sono buono Ok Hai sentito dove devi mettere la mela? In testa Dai Comunque il prossimo turno vedrai tipo una combo ma di quelle Ah sì? Che bastanti No dove è andato il mio personaggio? Ah non stavo neanche guardando Mi è scomparso un personaggio così all'improvviso Io direi di evocare uno di questi E con questo di attaccarti Codesto essere Ok passo Cedo la mano al mio avversario Guarda tipo E sei pronto? La mia grande scelta La giustizia del castigo Ecco Ragazzi Lui ha anche queste carte qui Tipo comprate Da progamer Ma che comprate? Ma che? Ma no Ma tranquillo Cioè che cazzo è quella carta? Ah no quella carta c'è anche all'inizio Sono io stupido Scusi La malvagità Scusi Basta dai Allora io direi di fare una roba del genere Ok 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 calma Assaggiate il mio acciaio Sto Cavolo Allora Vabbè Lasciamo stare Vai Hai finito così il tuo turno? Ok Sì sì Ok Linguaggio comprensibile di quella rana Ok Sì infatti Guardate che rana Mamma mia C'è proprio bellissima Ha due puntini rossi al posto degli occhi Ma è figo come carta dai Cavaliere a Marlock È anche poco È figo come Come Boh Allora Io Madonna Cos'è sto rumore Io Direi Di evoca Di attivare questo Intanto Oh Ho detto sì di me Ok Scusami Counter E ora Questo Problema Ora spartiamo i culi Ragazzi Non vi preoccupate La partita si rabbalterà La partita si deve rabbaltare per forza Perché Assuna 2000 Cadrà dalla sedia Ecco perché Si rabbalterà la partita Però Oltre a sta cosa Io in teoria Riuscirei a fare una roba Tipo del genere Ok Non ti dico cos'è appena uscito da questa uova Perché Eh vabbè Lascia stare Non puoi capire Anno Eh che cazzo Aspetta Aspetta Non è finito qua Ok No Sono leggendari ragazzi No E dopo dice che non copri le robe Ma che cazzo è stata Ora mi spacca alcuno Lettera Ha più un attimo Ha più un attacco per ogni Marlock sul campo Bene Uh Cosa è il credito di battaglia? Cosa? No Carica Muoviti Direi giri in fretta Allora Tanta No Cazzo Piterina Allora Tu mi hai inflitto un botto di danno Eh Non so Se io facessi Se io facessi Così E dopo No Ma è cinque Ah cazzo Piterina Cosa? Cacchio Ho sbagliato Niente No Quale cosa Non posso dirtelo Non posso dirtelo Ora vedrai una roba tipo Tipo What the fuck Ma aspetta aspetta Oh my donna E questa qui la roba What the fuck Con questa Con questa qua Ti tolgo scusi Perché si è evocato un Cos'è sta cosa Marlock Eh lo so È l'effetto Ah Marlock Ah ok Scusa Sì Scusi signore Mi basta l'attacco di un servitore nemico A uno Bene Ok Poi Ma io direi che hai finito E poi anche terminare Io direi anche di no Perché tipo Tanta Tanta Ok 10 14 Quindi No Ma se non scusate Sono buono Ma sono buonissimo Anzi Però vabbè Se non scusate Pazzesco Ragazzi Hashtag Counter Culo Non importa Non importa La prossima partita Userò un mazzo Un po' Più equilibrato Perché Essendo sinceri Io gioco da molto più tempo Di lui Quindi Non è vero Io gioco da molto più tempo Di te Solo che tu ci giochi Di più Ma che Cosa Va bene Fidati Lui ci nerda Come lo scher Che cazzo è sta roba Scusate ragazzi Cazzo squad Bene Va bene Fate finta Date ragione Lui Per questa volta Fidati È così Solo che lui Non la mette Vai vai Ok Direi di metterlo a lui No cazzo Piterina Poteva metterlo a lui Continuo a dire cazzo Piterina Non so perché Perché non hai messo Quell'altro Marlock Eh porca vacca Volevo metterlo a lui No ma intendi via quello 1 1 No a quel 2 1 Vabbè non i porco Ti distruggo il 2 1 Abbiamo iniziato la partita Non abbiamo neanche spiegato le regole Sì ma Ma li sanno Cioè Andiamo di intuito Dovrebbero in teoria Capire Che gioco è Herson Sì fatti Dovrebbero capire Che questo qui Guarda quanto è bello Cioè Ma Hanno tutti gli occhi così No sto qui proprio Non ce li ha Scusate Sto qui Sì ce li ha Però un po' Un po' più decenti No Ma che cazzo Te ne frega Sto qui Che cazzo è Va bene Ok Oh aspettate Vai 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 avanti Vai avanti Fra un po' Torno di nuovo Torno di nuovo Ragazzi si è tolto Dalla chiamata Cioè non è che si è tolto Proprio Allora Adesso gli spacco il culo Senza che ci sia lui Aspettate Cosa 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 No niente niente No niente Che cazzo Stai facendo Infame Va bene Sono pronto A sfidarti Pronto Yes Non te l'aspetteresti mai Ora ti faccio un'arca io Ai Marlock Mamma mia Vedi son 4 Marlock Di fine Tutti con uno Tutti con uno di salute Aspetta Che carta di merda Carta di merda Ma ti sto Rando Eh vabbè Capita Ok Fermo fermo Non ti voglio arare No ora mi Ecco infatti Perché Perché È gentile Però allo stesso tempo Fa lo stronzo Perché così Se gli tolgo un bordello Di vita Io sono a una Tanto mi killa Tanto per rendere il video Un po' più lungo Vai Uh aspetta Io potrei fare una roba del genere Per la giustizia Ok Che strono Sì Posso potersi riattaccare Vedete ragazzi Che gioca da più di lui Si nota Ok ragazzi Lui ha Un casino di carta Porca merda Sono nella cacca Ciao Allora Ciao Questa sarà Un'ultima cosa Che farò Allora Prima cosa Mi distruggo Sta merda qua Si Faccio I spazi A un boss Pronto? Si la carta Legendaria Doro Vaffanculo No Tu non ci Merdi Vabbè dai Scudo di vino Provocazione Rantolo di morte Barca Troia Equipaggio A un brand Che cazzo è Il brand Ragazzi Direi che Questa partita Termina qua Quindi Chi ha messo Hashtag Couter vince È un grande Quindi Mi spiace Assuna Capita Ah ma non Non potevi attaccarmi Con quello di 6 Di attacco Così mi spaccavi Ancora di più il culo Eh no Perché L'avevo a tenere Vabbè ragazzi Boom B Ci ho vinto Ok Quindi Ok Iscrivetevi al canale Di Assuna E lasciate Bei commenti In descrizione Intanto qualcuno Mi chiama Continua Lorenzo Sì Ragazzi Non ascoltate Vabbè Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace E scrivetemi Nei commenti Cosa vi è piaciuto E cosa non va Così Forse potrete anche Aiutarmi a migliorare Io direi che il video Può concludere qui Intanto c'è Couter Di sottofondo Che sta facendo I cazzi suoi Ma chi se ne fotte Bella ragazzi Couter saluta It's me Ok no 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 Non provarci Vabbè Ragazzi Tolgo il video Da Couter Assuma Qui è tutto Ciao ragazzi Ok Sarebbe compito mio Finire Però vabbè Bella ragazzi